Cura Italia, un intervento da 25 miliardi via libera del governo al decreto economico. Questa è una manovra economica poderosa. Alla sanità vanno circa 3 miliardi e mezzo. Prevista la sospensione delle rate e del mutuo sulla prima casa per 18 mesi per tutti i lavoratori in difficoltà, compresi autonomi e liberi professionisti che hanno subito un calo del 33% del fatturato. Bloccate le procedure di licenziamento avviate dal 23 febbraio in poi. Prevista la cassa integrazione per tutti i lavoratori di imprese e settore agricolo fino a 9 settimane. Per i lavoratori del settore privato la quarantena viene equiparata la malattia. Inoltre per partite IVA e autonomi indennità da 600 euro. A marzo viene concesso un premio da 100 euro a chi lavora in sede. Il pacchetto di misure a sostegno dei genitori di circa un miliardo prevede l'estensione del congedo parentale di 15 giorni al 50% della retribuzione o in alternativa i voucher babysitter da 600 euro. Per le aziende è previsto l'ampliamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese incentivi per la produzione di mascherine. Sul fronte fiscale sospensione di una settimana per tutti i contribuenti e per tutti i pagamenti in scadenza. Per tutti i settori più colpiti, turismo, ristorazione, sport, cultura, trasporti sarà garantita la sospensione fino al 31 maggio dei versamenti di ritenute, contributi, premi, assicurativi e IVA.